Partiamo, il senatore in ordine, il senatore, devo dire qualcuno si è, ha fatto retromarcia, il senatore Gian Puglia è a posto, il senatore Crimi, il senatore Crimi guarda che regolamente non prevede che lei possa stare incatenato a martelli, non so se è l'uno o il contrario, ma qualcuno dei due è imprisionato, così come il senatore Puglia, la collega che le sta a fianco, la senatrice Fattori, quindi guardate che vi posso, anche se i manettati possono essere portati fuori anche in colonna e non è che io ho una contrarietà. Ah, sono attaccati, non avete mai sentito parlare di tronchesini? Chiedo i commessi di recuperare gli strumenti per liberare i colleghi che sono incautamente... Colleghi, io risospendo la seduta, vado a cercare il fabbro... E quindi...